Buonasera a tutti, abbiamo voluto regalare ai giovani della zona il 23 luglio il concerto di DR Jackson. Il 23 luglio a Mirano alle 21 ci sarà il concerto di DR Jackson ai ragazzi che hanno vinto amici due anni fa, ai ragazzi di Dolo, Mira e Pianiga che hanno meno di 18 anni col documento alle casse da lunedì 11 daremo il biglietto omaggio altrimenti il biglietto costerà 5 euro.